dai ragazzi non riesco a prenderlo questo ma che c***o è grande pasqua contento marco di c***o no non ci credo ma che fa? ma mi lupa quella non ci credo 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 non dirmi di stare calmo Davide hai capito? no bello sono qua c***o no questo raga mi ha fatto un bellissimo 360 gg bravo bravo adesso è il momento di apprenderti e camperarti zio che figo ok ok quello è il nostro villain raga dai raga non riesco a prenderlo questo ma che c***o è non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo è non ci credo 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 che bravo il vecchietto aahhhh mi piace il kkkkk eh niente, lui spreche i pallet così tanto non ti servono le pallet, quindi le butta caso ci sto mi piace il kkkkk Siamo davvero finita. Vabbè, questo non riesco a prenderlo Cagì Vabbè, vabbè Escono, raga Raga, che cazzo è questo qui? Ma veramente Oddio No, vabbè Questo è dio, raga, giocare No, vabbè Ah, una bella build con lei, eh? Sembra per quel centimetro lui, raga Eh, stavolta basta Fatta la finta Eh, ma questo... Dai, guarda i ganci dove sono con lui qua, raga Minchia, primo gancio questo Oh, bravo, bravo, raga Tutti li ho azzio Oh! No, vabbè No, vabbè